Ciao a tutti, sono Martina Lopez, concertino dei violoncelli dell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Io e mio marito, Alfredo Persichilli, anche lui un collega dell'Orchestra del Teatro, abitiamo qui a Costa Vallemagna, un paese di montagna in provincia di Bergamo. Come tutti voi sapete, Bergamo purtroppo in questo momento è l'epicentro di questa terribile pandemia di coronavirus e noi siamo fermi con l'attività del teatro da tre settimane e da una settimana poco più fermi anche qui in casa. Abbiamo pensato di far arrivare un messaggio a tanti italiani che sono chiusi nelle loro case adesso, un messaggio di positività, di speranza attraverso la nostra musica. Quindi abbiamo registrato tre fantasie da temi di opere di Verdi, Rigoletto, Macbeth e Trovatore e speriamo, insomma, di uscire presto da questa situazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.